tadan! terzo video girato uno dietro l'altro sottolineo sono sempre vestita uguale perchè sto facendo un video dietro l'altro ne approfitto così ne faccio più di uno e anche se poi magari non non ci sono per un po' su youtube almeno ne ho caricato qualcuno in più allora, vorrei cominciare con il mostrarvi alcune delle palette di un brand che io amo veramente ed è la Urban Decay la Urban Decay è conosciutissima soprattutto su youtube ne avete visto e sentito parlare fino alla nausea io comincio con una delle più conosciute palette che non si tratta della Naked 1, 2, 3 quelle magari le farò in futuro o perlomeno al momento faccio quella della Naked Basic che secondo me è una delle palette più utili e versatili che la Urban abbia fatto perchè innanzitutto il packaging mi piace veramente tantissimo perchè è quasi gommoso è una palette realmente più piccola della mia mano e si può tenere in borsa si può portare fuori se si va da qualche parte se magari viaggiate se andate a fare un weekend e non vi volete portare 3000 trucchi dietro questa ha tutto quello che potrebbe servirvi in quei giorni oddio i capelli se ne vanno per i cacchi loro tutto quello che appunto vi potrebbe servire in quei giorni perchè ha i colori proprio base partiamo dal presupposto che io sono un amante dei colori accesi non amo molto i colori base però se uno magari vuole fare un trucco un pochino più da tutti i giorni da lavoro da ufficio un trucco da giorno appunto o anche un trucco da sera perchè comunque qua dentro abbiamo anche dei colori che per fare uno smokey sono perfetti andiamo un pochino sul dettaglio appunto allora innanzitutto si presenta così ha praticamente la grandezza di un iphone 4 per capirci il suo interno è composto da un bello specchio abbastanza grande probabilmente grande quanto tutta la palette sto girando il video con l'iphone ciao e non vi voglio appunto lampare con lo specchio e questi qua sono praticamente i colori contengono 6 ombretti il prezzo di questa palette se non dico una cavolata è sulle 30 euro se non sbaglio euro più euro meno sì 30-35 euro addirittura non mi ricordo allora la pigmentazione come tutte le urban è fantastica veramente fantastica all'interno qui abbiamo un come colori opachi probabilmente la urban non sa fare soltanto una palette di colori opachi e io la ringrazio almeno per quanto mi riguarda io non amo particolarmente i colori opachi ma preferisco più gli shimmer preferisco più i perlati preferisco più i satinati preferisco più i brillucicosi allora qui dentro abbiamo un non contiene il pennello viene dato se non sbaglio con il primer potion un campioncino di primer e abbiamo un i colori sono il venus il foxy il wals nek2 find e crave il mio inglese al solito fa pena e abbiamo ora vi faccio probabilmente gli swatch i colori sono appunto questi e vi faccio gli swatch così ci rendiamo un attimino conto di quello che appunto stiamo parlando oltre ad essere pigmentati sembra burro tutti gli ombretti della urban sembrano burro allora alcuni sono un po' più pigmentati nel senso che comunque si vedono di più ma tutto sta in base al colore appunto ce ne sono alcuni che nella mia mano nemmeno si vedono ma è un fattore diciamo proprio del colore di per sé non perché non scrivano ma perché appunto sono dei colori abbastanza neutri io cerco di ho combinato un pasticcio va bene ok allora andiamo a citare quest'altra mano va allora questo è il venus poi abbiamo il foxy ed è il secondo questo poi abbiamo il wows ed è questo vedete come sono pigmentati poi abbiamo il naked 2 poi abbiamo il faint ed è questo e poi abbiamo il nero che più nero non si può ed è questo ripeto è una palettina piccola è una palettina che comunque racchiude tutto quello che può servire per un make up veloce io non ho dove asciugarmi le manine amen se la consigli assolutamente si io la consiglierei tranquillamente con questo ci vediamo al prossimo video penso che sicuramente farò qualche altro video magari sulle naked io sono più una collezionista delle naked certo le utilizzo però ci vado gradualmente magari prima finisco una palettina poi comincio le altre quindi molto le ho totalmente chiuse sigillate con questo appunto vi saluto alla prossima